Post voto, consiglieri ed esponenti della giunta regionale analizzano l'esito delle amministrative in Toscana. Cave, approvata la nuova norma sui siti da riqualificare. Le celebrazioni per i 30 anni della strage di via dei georgofili. Nel mese di maggio appena concluso, 22 comuni della Toscana sono stati chiamati alle urne per le elezioni amministrative. 16 sindaci sono stati eletti al primo turno, mentre per altri 6, tra cui 3 capoluoghi di provincia, c'è stato bisogno del ballottaggio. Il secondo turno ha visto prevalere nettamente il centrodestra, che ha vinto nei tre capoluoghi, Massa, Pisa e Siena, e anche a Pietrasanta. Il centrosinistra ha avuto la meglio solo a Pescia, mentre Campi e Bisenzio è andato alla coalizione formata dalla sinistra e dal Movimento 5 Stelle. La soddisfazione dei consiglieri regionali del centrodestra. Il dato politico vero è che laddove governa il centrodestra ormai non è più un caso la vittoria del centrodestra. Ci avevano detto che avevamo vinto a caso Massa, Pisa, Siena, dopo 70 anni governo di centrosinistra. La verità è che la riconferma delle donne e degli uomini del centrodestra, della buona amministrazione centrodestra, conferma che quando governa il centrodestra i cittadini continuano a darci fiducia. Da qui partirà la nostra campagna elettorale per le amministrative del 2024, verranno coinvolti 184 comuni, il capoluogo di regione, due capoluoghi di provincia portanti come Livorno e Prato, e per le regionali del 2025. Il centrodestra si farà trovare attrezzato, già abbiamo cominciato a ragionare della nostra prospettiva, della guida, della squadra, dei programmi, a partire dal lavoro che stanno facendo i consiglieri regionali. Siamo cresciuti come il centrodestra, abbiamo riconfermato tutti i capoluogo di provincia che governavamo e come Fratelli Italia è la soddisfazione anche di essere la prima forza della coalizione, che ovviamente ci riempie di orgoglio e di oneri e soprattutto è finita la novella che la sinistra ha raccontato per cinque anni e nel 2018 a Massa, Siena e a Pisa, Conti, allora De Mossi e Persiani avevano vinto perché il 2018 era un anno particolare dove i Cinque Stelle stavano al governo con la Lega. L'analisi del presidente della regione toscana. Per i voti regionali non sono preoccupato perché il PD e soprattutto la coalizione centrosinistra ha preso più di quanto prese cinque anni fa perché se voi pensate siamo stati in gara in tutti e sei i luoghi oltre i 15 mila abitanti che già hanno portato al balottaggio. Quello che è mancato è l'aspetto qualitativo, cioè portare qualcuno dei nostri sindaci a fare il sindaco. E qui ho un po' di riflessione ai gruppi dirigenti locali perché quei gruppi locali certe volte hanno peccato un po' di presunzione pensando di potercela fare da sé e non sviluppando quelle larghe coalizioni che invece il PD deve fare perché non è più autosufficiente quando c'è da raggiungere il 50%. La riflessione degli esponenti di centrosinistra. Il risultato delle amministrative ha dimostrato che più che un'elezione di un sindaco erano elezioni di carattere politico dove le contrapposizioni tra le forze politiche che a questo momento governano a livello nazionale hanno dimostrato forte radicamento anche nel territorio toscano. Questo impegna ciascuno di noi che invece governa in regione toscana a dimostrare fiducia reciproca all'altro cercare quando ci sono le elezioni amministrative maggiormente quei punti di convergenza al cospetto delle cose che possono in alcuni casi dividere non sempre questo è stato possibile e credo che apra una riflessione seria anche rispetto alla tenuta del centrosinistra. Pescia dimostra che partendo come era stato nel nostro caso dal 12% del 2018 in cinque anni facendo tutta una serie di scelte radicali e coraggiose si può ritornare a vincere anche in luoghi dove nessuno avrebbe scommesso che saremmo riusciti a farlo. Ogni comune ha una storia a sé io penso che il vero banco di prova per il nuovo gruppo dirigente del Partito Democratico in Italia e in Toscana siano le elezioni del 2024. E infine ascoltiamo le valutazioni del Movimento 5 Stelle. Siamo consapevoli che il fatto di non essere ancora riusciti a radicarci nel corso degli anni sul territorio rispetto a altri partiti ben più datati del nostro sia un vulnus per la nostra formazione politica. Tuttavia l'esempio di campi dove abbiamo espresso persone credibili che hanno portato avanti un programma concreto nell'interesse dei cittadini, della comunità e dell'ambiente ha pagato. Il Partito Democratico in casi come un pruneto dove si è dimostrato di mettersi in discussione pienamente e con le persone e con il programma è stato sicuramente un alleato con cui abbiamo potuto dialogare e costruire un percorso insieme. A Impruneta governeremo insieme. Questi però sono dei casi che sono delle eccezioni, sono dei tasselli in una regione toscana ancora forte trazione, riformista e renziana che non lascia nessuno spazio a quelli che sono i nostri programmi di base. La lotta alla disuguaglianza, la tutela del lavoro, dell'ambiente, del paesaggio, rifiuti zero. Approvata con i soli voti della maggioranza, la modifica della disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare. Per queste aree la norma introduce la possibilità di riprendere l'attività estrattiva allo scopo di finanziare la riqualificazione ambientale e la messa in sicurezza e comunque per quantità non superiori al 30% di quanto già estratto nel sito al momento della cessazione. Sono escluse sempre e comunque le cave di materiali ornamentali. Il provvedimento, dopo il via libera delle commissioni competenti, è stato approvato in aula con gli emendamenti del PD. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo naturalmente escludendo i materiali ornamentali perché in alcune parti del nostro territorio, nel nord della Toscana, per esempio Carrara, diventava un problema se si autorizzava ancora di più questa cosa. invece è proprio fatto per dire, vabbè, chi c'era prima non ha avuto la possibilità per qualunque motivo, ripeto, di bonificare questo terreno, di renderlo paesisticamente dal punto di vista della sicurezza coerente con quel paesaggio. Diamo a chiunque ne faccia richiesta, i comuni danno a chiunque ne faccia richiesta la possibilità di ripristinarlo, dando una compatibilità economica con l'estrazione. Solo per il recupero ambientale, sono tu puoi estrarre in funzione del progetto di recupero ambientale e naturalmente non può essere prorogato, non può essere rinnovato. Abbiamo messo dei paletti molto molto importanti. Abbiamo come Partito Democratico ascoltato in questi mesi, che sono decorsi dall'approvazione della Giunta, ad oggi gli stakeholder, dalle associazioni ambientalisti, agli industriali, ai cittadini e abbiamo pensato di presentare un ammendamento approvato in Commissione che limita questa modalità, come dicevo, non lo estende alle cave dove si estrae materiale ornamentale perché diventava, se no, un riaprire un piano cave che invece in questa regione funziona. Voto favorevole e convinto anche da Italia Viva. Per noi è una norma molto positiva che abbiamo votato, un progetto al quale lavoravamo da mesi, un impegno della maggioranza assunto in maniera condivisa che dà una prospettiva di sviluppo a molte aziende in un momento importante dove c'è da fare tante opere pubbliche e non solo, dove c'è da fare molti interventi ma nello stesso tempo mette a reddito degli interventi che rischiavano, diciamo, di essere diseconomici e dà una risposta all'economia, allo sviluppo e soprattutto alle dinamiche imprenditoriali quindi richiesta dai territori e quindi, diciamo, sostenuta con forza anche dal nostro partito rimane un po' anacronistica, diciamo, punto di vista molto ideologico dei Cinque Stelle che, contrari a tutti, anche su questo aspetto vorrebbero, diciamo, un immobilismo che la Toscana sicuramente in un contesto sociale, economico come quello attuale ovviamente non può permettersi. Ascoltiamo quindi le ragioni del no del Movimento Cinque Stelle. Questo troviamo che sia grave come comportamento da parte della Regione Toscana perché in pratica sconfessa se stessa e soprattutto sconfessa tutti gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente e al cercare di considerare la risorsa, la pidea come qualcosa che andrà a esaurimento. Il fatto che si parli di coltivazione dei siti estattivi, per esempio, secondo me è gravissimo perché è un inganno lessicale, perché tutti vediamo quelli che sono i risultati dell'attività intensa di estrazione nelle nostre montagne e crediamo che invece la Regione Toscana debba guardare maggiormente agli aspetti ambientali piuttosto che pensare soltanto agli aspetti economici che sembrano invece essere l'unico modo in cui le nostre montagne vengono rappresentate. Astenuto invece il centro-destra. Ci siamo astenuti perché non ci abbiamo visto chiaro né dal punto di vista della situazione attuale dei siti estrattivi in Toscana né rispetto all'andamento di questa proposta di legge che era emersa a novembre in Commissione, poi è scomparsa, è riapparsa dopo sei mesi accompagnata da un paio di emendamenti del PD che hanno eliminato i siti estrattivi di materiali pregiati come i marmi ed altri dalla ulteriore possibilità di riqualificazione ambientale che la norma prevede e inoltre non ci è sinceramente piaciuto il modo attraverso il quale la maggioranza ha fatto muro rispetto ai emendamenti dell'opposizione che tendevano a chiarire il contenuto della norma che peraltro è discutibile in alcuni passaggi. Il Consiglio regionale in collaborazione con la Questura di Firenze l'associazione Quarto Savona 15 ha ricordato il trentennale della strage di Via De Georgofili con una serie di iniziative che si sono tenute tra la sede dell'Assemblea Toscana, il piazzale degli Uffizi e appunto Via De Georgofili. È una giornata emozionante, è una giornata che non serve solo a costruire memoria ma anche a comprendere. Abbiamo deciso di mettere qui vicino a Via De Georgofili la Quarto Savona 15 che è il simbolo purtroppo del tragico attentato che portò alla morte di Giovanni Falcone, di sua moglie e di anche Antonio Montinaro e altri due ragazzi della scorta. Perché l'abbiamo messa qui vicino? Perché è stata una stagione stragista davvero tragica che ha toccato tutta Italia. È partita dalla Sicilia ma è arrivata a Roma, a Milano e poi nel cuore di Firenze portando anche tra l'altro alla morte di una bambina di 50 giorni. Oggi siamo qui per dire no alle mafie, che noi faremo tutto quello che è il nostro possesso perché anche in questa terra che fino a poco tempo fa sembrava una terra incontaminata ma che invece ha visto l'arrivo di infiltrazioni mafiose. Noi dobbiamo costruire tutte le condizioni perché queste non ci siano più. È una sfida collettiva, non passa solo attraverso il nostro impegno, quello delle forze dell'ordine e della magistratura che ringrazio, ma serve un cambio di paradigma culturale molto forte ed è questo quello che vogliamo fare insieme alle ragazze e ragazze alle nostre scuole. Una serie di appuntamenti che ha visto la partecipazione di tutte le forze politiche. È un momento di silenzio, di testimonianza, di impegno. Siamo qui uniti per dire che continuiamo tutti i giorni in modo forte, convinto, sinergico per le varie istituzioni la lotta contro la mafia. Abbiamo collegato idealmente la strage di Capaci con la testimonianza che la vedova Montanaro ha svolto nel Consiglio regionale a questo momento di riflessione veramente importante di fronte al monumento per la memoria delle vittime e dei georgofili. Tutti insieme, senza retorica, ma con tanto impegno contro la mafia per dire mai più e per dire che chi sbaglia deve pagare. La strage di via dei georgofili, lo ricordiamo, avvenne nella notte fra il 26 e il 27 maggio 1993 quando l'esplosione di un'autobomba posizionata da Cosa Nostra nei pressi della Galleria degli Uffizi provocò la morte di cinque persone, tra cui due bambine. Per questa edizione è tutto. Potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it e la pagina www.consiglio.regione.it